Lei ammicchiava, probabilmente con grande ironia, forse non era dentro un contesto televisivo. Non era dentro un contesto televisivo, è estrapolata solo questa parte e io parlavo. Lei è bella, non è che nessuno discuta quello, non è un problema far vedere quanto si è belle, è che il calcio lavora un po' troppo su questo lato. Sì, spiego però che questa comunque è una decisione mia, quindi nessuno mi ha detto niente, era un format mio e parlavo di Picci, che è un giocatore che aveva fatto successo anche sul web perché diceva sono un fenomeno, sono un fenomeno, insomma avevo mandato in onda queste interviste e lo prendevo in giro dicendo come mai Inter, Milan, Juve, non avete notato ancora Picci, forse serve un bravo procuratore, Picci ci sono io, sono tutta per te. Ma come lo dice? Lei lo dice. Sì, ma che cosa c'è? Però perdonami. Mi scusi e giochiamoci. Però io vorrei fare una distinzione, forse è intrattenimento e non giornalismo. Esatto, e questo è intrattenimento, io non sono una giornalista e poi ti posso dire una cosa Massimo, allora perché ora io sono piacente e quindi se lo faccio io allora sembra che amico, se lo fa una ragazza di spiacevole assetto eronia. Scusate ma... No, però quello era... Mi sbaglio? Non era sembra che ammicchi, lei ammiccava, poi per carità... Sì, ma ragazzi, aspettate però ti vuole anche un pochino più di leggerezza, nel senso che cosa c'è di male a dire va bene Picci ti serve un bravo procuratore, sono tutta per te. Ma io la seguo, la seguo, però quando vedo delle colleghe che si spogliano dentro con colleghi che tolgono il vestito, le dedudano, Corno mi dice, ah ma era uno scherzo, era un gioco, mi ha scritto anche lui un'email, Corno io ho delle altre immagini che non mando per pietà tua, se le mandassi sarebbero ancora peggio, quindi capisco che magari vi eravate messi d'accordo tu e lei, non è una grande immagine, posso dirlo, non è una grande immagine. Con questo sono d'accordo, dato che io appunto non mi sento che mi rappresenta questo servizio, ci metto la faccia e sono qui apposta. Brava, ma infatti altre non hanno voluto venire, è invitato. Io sono d'accordo con quelle ultime immagini, voglio Piselli, voglio quella ragazza che viene spogliata, è umiliante, io per esempio non l'avrei permesso, ma a fare una battuta dicendo Picci ti serve un bravo procuratore, sono tutta per te, ma mi cante di che. Posso dirti, al netto del tuo caso specifico che non conosco e ho visto nella clip, però ecco, se uno fa un uso consapevole del proprio corpo, cioè tu scegli di proporti sessualmente come un'immagine sessuale e lo fai consapevolmente e quello ti fa premio sul desiderio di far passare una giornalista per il suo merito, è una scelta, però deve essere fatta consapevolmente, non puoi pensare che presentarti in quel modo, scherzare, ammiccare, è una proposta, diciamo, ti proponi fisicamente in quel modo, quindi se lo fai con lucidità. Allora ragazzi, posso farvi vedere un'altra donna che si è